Il nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Signore sia con voi. Come ogni domenica, anche nella trentunesima del Tempo Ordinario, siamo riuniti qui per incontrare il Signore esso, ascoltare la Sua parola, di cercare da Lui il segno del Padre spezzato che ci dà nella vita di ogni giorno la forza di amare. E allora Ciascuno di noi può portare qui, facendo l'Eucaristia, cioè il rendimento di grazie, i Suoi motivi di gratitudine. Uno mio personale è che, proprio l'altro ieri, ho compiuto quattro anni di presenza, quindi come guarda. L'altro motivo è stato l'incontro di presentazione pubblica del servizio di accoglienza notturna, e anche vedere come diverse persone stanno dando la loro disponibilità per collaborare. Questa Eucaristia, poi, facendo memoria di una data, quattro novembre di tanti anni fa, facendo memoria della fine, dunque, della guerra, vogliamo pregare perché finissero tutte le guerre. E vogliamo ricordare tutte le persone cadute e che ancora oggi, appunto, a causa della guerra, muoiono. Vogliamo, dunque, rendere intensa la nostra preghiera per la pace, innanzitutto nei nostri cuori, perché si diffonda anche nel mondo. Dall'inizio di questa messa chiediamo per tono di tutti i nostri peccati. Signore, tu sei la vita che riconduce al padre, abbi pietà di noi. Signore, tu sei la vita che riconduce al padre, abbi pietà di noi. Signore, tu sei la vita che rinnova il mondo. Abbi pietà di noi. Dio, onipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Gloria a Dio nell'alto dei cieli. Signore, grazie, Facebook, gliel'abbi pietà di noi. E poi, prognosi una salutazione di noi. Signore, Dio, He del cielo, Dio Padre è onipotente. Signore, figlio di geni e con Gesù Cristo. Signore, Dio, ammielo di Dio, figlio del padre. Tu che togli i peccati del mondo, abbi i pietari, tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra soffrica, tu che siedi alla destra del Padre, abbi i pietari, perché tu sei il Santo, tu sei il Signore, tu sei l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Ammè. Prefetto. Dio, incotente e misericordioso, tu solo puoi dare a noi fedeli il duro di servirti in modo lodevole e degno. Fa che camminiamo senza ostacoli verso i beni da te promessi. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te in unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dio, incotente e misericordioso, io sono un re grande, dice il Signore degli eserciti, e il mio nome è terribile fra le nazioni. Ora, a voi questo monito, sacerdote, se non vi ascolterete e non vi darete premura di dare gloria al mio nome, dice il Signore degli eserciti, manderò su di voi la maledizione. Voi, invece, avete deviato dalla retta via, e siete stati un ciango a molti con il vostro insegnamento. Avete distrutto l'alleanza di me, dice il Signore degli eserciti. Perciò, anche io vi ho reso spreggevoli via via di davanti a tutto il popolo, perché non avete sentito le mie vie e avete usato la parzialità del vostro insegnamento. Non abbiamo forse tutti noi un solo Padre? Forse non ci ha creato un unico Dio? Perché dunque ci rego per figli all'uno contro l'altro, profanando l'alleanza di nostro impare? Parola di Dio Vieni Signore, non si esalta il mio cuore. Nei miei occhi guardano in alto, non vado cercando cose grandi, né meraviglie più alte di me. Sporrici, signore, per la pace. Io, invece, rastroppietto e sereno, come un bimbo svezzato in braccia a sua madre, come un bimbo svezzato è in me l'anima mia. Sporrici, signore, per la pace. Sporrici, signore, per la pace. Sporrici, signore, per la pace. Israele, anteta, signore, da ora e per se. Fluccese. Sfrani. Siamo stati amorevoli maggiore, come una madre che ha cura dei propri figli. Così, affezionati a voi, avremmo desiderato trasmettervi non solo l'angelo di Dio, ma la nostra stessa vita, perché ci siete diventati cari. Vi ricordo voi di ricordare, infatti, fratelli, il nostro duro lavoro e la nostra fatica, lavorando un altro giorno per non essere depeso ad alcuno di voi. Vi abbiamo annunciato il pangelo. Proprio per questo, anche noi rendiamo continuamente grazie a Dio, perché ricevendo la parola di Dio che voi vi abbiamo, noi vi abbiamo fatto dire, l'avete accolta non come parola di uomini, ma qual è veramente, come parola di Dio, che offre a noi tre denti. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Alleluia, alleluia, alleluia. 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 Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, 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 Alleluia. Il Signore stia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, Gesù si rivolse alla folla e ai Suoi discepoli, dicendo, «Sulla cattedra di Mosè si sono seduti gli iscritti e i farisei. Praticate e osservate tutto ciò che vi dicono, ma non agite secondo le loro opere, perché essi dicono che non fanno. Legano i fatti, fatteli pesanti e difficili da portare, e li pongono sulle spalle della gente. Ma essi non vogliono muoverli neppure con un dito. Tutte le loro opere le fanno per essere ammirati dalla gente. Allargano i loro filateri e allungano le frange. Si compiacciono dei posti d'olore nei banchetti, dei primi secchi delle sinagoghe, dei saluti delle piazze, come anche di essere chiamati rabbì dalla gente. Ma voi non fatevi chiamare rabbì, perché uno solo è il vostro Maestro, e voi siete tutti fraterniti. E non chiamate il Padre nessuno di voi sulla terra, perché uno solo è il Padre vostro, quello celeste. che non fatevi chiamare guida, perché uno solo è la vostra guida, il Cristo. Chi tra voi è più grande sarà il vostro servo, e chi invece si esalterà sarà umiliato, e chi si umilterà sarà esaltato. Parola del Signore. Le letture di questa domenica mi hanno aiutato a leggere quel fatto, certamente personale, ma che riguarda un po' la comunità, come dicevo all'inizio, il mio ingresso quattro anni fa, 3 di novembre, e dunque questo tempo passato in mezzo a voi. E dunque, anche un po' scusandomene, oggi, rispetto al sogno, forse condivido qualche accento più personale, anche se sempre in ascolto della parola di Dio. Parto dalla prima lettura, il profeta Malachia, l'avete sentito, è un severo, primi profeo, rivolto ai sacerdoti. E non voglio certo sottrarvi, adesso. Mi consola, però, il fatto che, nella nuova alleanza inaugurata da Gesù, sacerdote, in senso proprio, è soltanto Lui. E noi tutti, battezzati, predi, o laici, partecipiamo del Suo sacerdotio. e dunque, formiamo un popolo, tutto sacerdotale. Anche voi, comunque, siete sacerdoti. Tutti abbiamo nella Chiesa una responsabilità e tutti siamo abilitati dal battesimo ad essere presenza sacerdotale in mezzo agli altri, cioè che avvicina e unisce a Dio. Per questo, Gesù del Vangelo, che abbiamo ascoltato, ha ribadito con forza. Siete tutti i fratelli. non chiamate nessuno padre, maestro, guida, uno solo lo è. Questo, capiamo, relativizza molto il ruolo del prete o del parco, che certamente con il sacramento dell'ordine è dotato di un sacerdotio specifico, lo si chiama ministeriale, cioè a servizio del sacerdotio comune, quello battesimale, non può e non deve mai sostituirlo. Due volte nelle letture oggi è comparsa l'immagine bellissima della madre che si prende cura dei figli e tiene in braccio un carlino appena spezzato per quanto una mamma può essere sacerdote di fatto dei suoi figli a suo modo certo, non come un prete ma realmente. Ripeto, con questo non voglio sfruttarmi alla mia responsabilità di prete di parco, però questa cosa mi fa bene perché mi fa sentire una reale appartenenza comune al battesimo che ci rende uguali ben più che distinti e soprattutto insieme fratelli corresponsabili della parrocchia certo io parlo come i parrocchiani ma tutti investiti come sacerdoti e ancora cito malachia della premura di ascoltare Dio e di dare gloria al suo nome. E allora qui faccio mio di nuovo prendendolo dalla lettura di oggi San Paolo il ringraziamento che lui ha elevato al Signore per le persone della comunità di Tessalonica dove aveva annunciato il Vangelo perché dice hanno accolto la parola di Dio non come parola di uomini ma come parola di Dio.